Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fino al 28 febbraio chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. E sul tratto appenninico fare attenzione per nebbia a banchi tra Rioveggio e Aglio. Nebbia a banchi anche sulla A12 tra Sestri Levante e Carrara. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in pruneta. Sulla regionale 2 Cassia restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 278 nel comune di San Casciano-Val di Pesa. Infine ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo per le vetture. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!